ecco il nostro metodo classico extra brut la perla prodotto con la nostra pignola valtellinese è un metodo classico quindi una méthode champenoise con rifermentazione in bottiglia 24 mesi sui lieviti extra brut con 3 grammi di zucchero nella liqueur d'expedition qui siamo in cantina e siamo pronti per il remiage questo sfumante è uno sfumante fresco una bollicina di montagna tutta da bere e da gustare salute il valtellina superiore la mossa è la nostra vendemmia normale viene raccolta a metà ottobre dopo la vinificazione che avviene in acciaio passa in legno in queste botti dove subisce un affinamento di tre anni prima di essere imbottigliato e essere poi pronto da bere qui invece abbiamo la nostra riserva elisa valtellina superiore che è una vendemmia tardiva viene raccolta un tre settimane dopo rispetto alla vendemmia normale quindi siamo attorno ai primi di novembre l'uva resta impianta si concentra leggermente in zuccheri abbiamo quindi un po' più di alcol nella riserva elisa rispetto alla mossa e la riserva elisa fa poi un anno in più di affinamento in botte grande quindi sono quattro anni di affinamento in queste botti di legno anche questa viene imbottigliata riposa ancora in bottiglia per un anno in cantina e poi esce sul mercato pronta da bere salute viva la mossa e viva la riserva elisa grazie 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 a tutti.